Quale che sia la classificazione che verrà attribuita, limito che faccio il più forte possibile ad avere più paura dei contagi che paura delle sanzioni. Farsi in qualche modo zona rossa da sé, cercando di limitare al massimo i contatti e la contaminazione dei nostri cari e dei nostri concittadini.